Saluto dal dottor Palmas, SOS Turismo Dentale, dentisti in Moldavia. In questo video rispondiamo alla domanda quando si mette la gengiva artificiale, quando si vanno a mettere tutti i denti in una bocca? La risposta è semplice ed è analittica, noi non lasciamo mai scegliere se la gengiva vada ammessa oppure no ai pazienti, neanche lo decidiamo noi, semplicemente ce lo dicono dei parametri guardando la bocca del paziente che noi prendiamo in considerazione. Per spiegarti se il tuo sia un caso da simulare la gengiva oppure da non simulare la gengiva ti spiego come funzionano le riabilitazioni. Quando noi guardiamo una persona, la persona ha per esempio, simulo le gengive, ecco qua, sulle gengive c'è per esempio i canini, gli incisivi laterali un po' più piccolini, gli incisivi centrali in genere un po' più grandi e i canini. In genere se noi tiriamo una linea dalla sommità del canino alla sommità dell'incisivo, i parametri estetici corretti dicono che ci deve essere un millimetro tra questa linea al margine dell'incisivo, poi tra America e Europa c'è abbastanza differenza, nel senso in America gli incisivi si fanno così, laterali, in Europa invece il sorriso europeo prevede specialmente poi nelle donne dei denti un pochino più piccoli per i laterali, lunghi massimo 9 mm, lo stesso, la stessa cosa per la linea tra le sommità della gengiva, tra canino e incisivo centrale. Qua per esempio ho disegnato dei denti, un sorriso classico americano. Qua sopra cosa ci sono? Ci sono le radici nell'osso, ovvero i denti hanno sotto delle radici, questa sarebbe praticamente la gengiva e poi c'è praticamente che cosa? Anche un labbro qua di una bocca che sorride, ok? Solitamente i denti, questo è il labbro inferiore e questo per esempio è il labbro superiore. Quando si perdono i denti, si perdono non solamente le porzioni bianche visibili del sorriso, ma si perdono anche le radici. Quando noi perdiamo le radici, cosa succede? Che le gengive non rimangono qua, ma le gengive si ritraggono. Se noi restiamo senza denti per diversi anni, le gengive possono anche salire a questo livello e l'osso pure viene riassorbito. C'è da notare che nel settore anteriore la zona proprio degli incisivi centrali e laterali è la zona che si riassorbe 10 volte più velocemente di tutta le ossa del corpo, quindi perdere i denti anteriori è veramente una criticità quando si ha un sorriso, un labbro superiore che è ipermobile, che sale parecchio, che ci sono persone che quando sorridono si vede la gengiva, persone che sorridono e manco i denti si vedono. Dipende un po' dalla conformazione del labbro, da quanto il labbro è lungo, da quanto il labbro è elastico, da quanto il labbro è anziano, quindi è lungo. In genere il labbro ha una lunghezza di 27 mm, nell'anziano il labbro è molto più lungo e abbiamo persone che ci dicono ma io quando sorrido non si vedono i denti. Certo, perché hai un labbro molto lungo, ma noi non possiamo mettere i denti qua giù in un labbro già lungo. Cioè ci sono dei parametri facciali che vanno tenuti in considerazione quando si programma dove bisogna mettere nel display del sorriso, dal labbro superiore al labbro inferiore, questo spazio si chiama display del sorriso, dove vanno posizionati i denti che devono coincidere chiaramente con la linea mediana del viso, devono stare visibili tra questo e questa parte del labbro, ma soprattutto devono avere un'altezza e larghezza con una proporzione dell'85%. Se viene sballata questa proporzione praticamente si ha la sensazione o dei denti piccoli o dei denti lunghi da balena, come i fanoni. Quando noi perdiamo le radici, dicevo prima, l'osso se ne va, allora noi dobbiamo non solo andare a mettere degli impianti dentali, ma dobbiamo anche, gli impianti dentali si mettono là dove è finito l'osso, ma dobbiamo anche ricostruire il tessuto osseo che, o meglio simulare la gengiva che si è persa, questa è la cosiddetta gengiva artificiale. Se noi non facessimo questo, in questi casi di grande riassorbimento osseo, ci ritroveremo dei dentoni lunghi, che quando una persona sorride, chi ti guarda dice, ma quello che c'ha i denti da Dracula, quello c'ha i denti strani. Questo è il classico caso, per esempio, in cui non viene fatta un'analisi estetica prima della ricostruzione della dentatura. Questo video lo metto come primo in questa sezione perché è importante, prima ancora di scegliere i materiali, capire proprio questo col paziente, capire quanta quota di tessuti si sono persi all'interno della bocca. Ci sono bocche dove l'osso si è ritirato tanto, sia sotto che sopra, dove dovremo costruire molto di più per riempire la bocca di ciò che si è perso. Invece delle bocche dove si sono persi i denti, non c'è necessità di ricostruire la gengiva perché la gengiva e l'osso stanno ancora lì dove erano originariamente. Quindi gengiva sì, gengiva no, non è una cosa che decide il paziente. Sono parametri estetici che sappiamo, che conosciamo noi degli addetti ai lavori. Se bisogna ricostruire, simulare la gengiva e l'osso perso, noi lo facciamo sempre perché quando poi il labbro sorride non scopre mai la linea di passaggio tra la gengiva artificiale e le gengive reali, ma se noi facciamo dei denti lunghi, scoprendo il labbro, i denti lunghi si vedono e sono veramente antiestetici. Per ora un saluto da Dottor Palmas e appuntamento ai prossimi video. Un saluto dalla Moldavia.